Io non ho nessun impianto, non ho solo grande soddisfazione, a posteriori personalmente no, però qualche impianto ci sta, soprattutto perché a qualche punto vedendo lo score di adesso, anche qualche punto in più di rispetto a qualche punto ci sta. Nel calcio non c'è mai la controprova, quindi atteniamoci ai dati e ai numeri che ci sono avessi, quindi andiamo avanti, siamo contenti di fare i playoff e speriamo di farli da terzi, di regalare la partita in grado ai nostri tifosi che si sono riavvicinati alla squadra e quindi per me è un doppio motivo di soddisfazione.